Leonardo Di Caprio shock Leonardo Di Caprio shock, mi sono salvato dall'attacco di uno squalo Sexy e talentuoso, Leonardo Di Caprio è l'uomo dei sogni per moltissime donne, che seguono assiduamente tutte le sue ultime novità. Single incallito e grande attivista nella tutela dell'ambiente, il bel Leonardo è un uomo di successo e lo dimostrano le sue passioni costose, come quella per l'arte contemporanea e la sua beauty routine da migliaia di dollari. La star di Hollywood ha rivelato di essere anche un uomo molto fortunato perché è scampato al feroce attacco di uno squalo, ecco come sono andate le cose. Leonardo Di Caprio, la fortuna mi assiste. Leonardo Di Caprio ha partecipato a tantissime pellicole che hanno fatto la storia del cinema, uno dei film più famosi, girato nel 2006, l'ha visto coinvolto in un pericoloso faccia a faccia con uno squalo. La star di Hollywood è rimasta chiusa in una gabbia con uno squalo bianco, ma ne è uscito vivo. Non si può dire che la fortuna non lo assista, ma da quel giorno di Caprio si è ripromesso di evitare altri incontri ravvicinati del terzo tipo. Il suo amore per la natura e il rispetto per l'ambiente e gli abitanti del mondo animale, lo hanno portato a diventare uno dei maggiori attivisti ambientali del mondo, donando cifre da capogiro ed investendo in attività ecosostenibili. Leonardo Di Caprio è l'icona sexy per eccellenza di Hollywood, fin dai suoi esordi con l'inseparabile amica Kate Winsley in Titanic. Oggi l'attore, superata la soglia dei 40 anni, continua ad essere il singla canito di sempre, dopo essersi lasciato alle spalle numerose relazioni sentimentali avute con alcune colleghe attrici e con celebri top model come Gisele Bunchen. Grande amante delle donne, oltre che della natura, Leonardo ha sempre dichiarato di non essere interessato a sposarsi, ma qualora dovesse incontrare la donna dei suoi sogni, rigorosamente ecologista, allora potrebbe anche cambiare idea. Impegnato sul set e nella realizzazione di numerosi progetti dedicati alla salvaguardia del pianeta, la star di Hollywood continua a dedicarsi alla sua beauty routine da migliaia di dollari e il suo aspetto fisico impeccabile lo dimostra. Sono tantissimi i rumours su suoi presunti flirt, ma per il momento sembra invece che il bel Leonardo sia più single che mai, impegnato nella sua vita quotidiana tra asti d'arte contemporanea incontri sportivi. Nessuna solitudine o rimpianto, Leonardo DiCaprio possiede l'elisir di giovinezza e vive ogni momento della sua vita al massimo dell'intensità, senza lasciarsi condizionare da progetti a lungo termini o stereotipi sentimentali. In molti hanno parlato di una sua possibile relazione con Kate Winsley, ma le voci sono state smentite, la loro è solo amicizia, anche se il pubblico non smette di fantasticare su un lieto fine tra Jack e Rose. Grazie per la visione!